È di 42 il numero complessivo di piante ammalorate o giunte al termine del proprio ciclo vegetativo che Aspes, a partire dai prossimi giorni, abbatterà in zona mare, nelle vie Gramsci, Cavallotti, Raffaello Sanzio e Vaccai. Un'opera di manutenzione del verde cittadino importante, che ha visto la progettazione e la condivisione delle modalità e degli interventi insieme al quartiere e alle associazioni ambientaliste. Tra i motivi che hanno portato a programmare i lavori, oltre alle condizioni delle piante, sono stati identificati anche i rischi e i disagi che potrebbero derivare dal crollo di alcune di queste. L'operazione garantirà inoltre una continuità delle specie già presenti nell'aria. In seguito alla rimozione degli esemplari, infatti, si provvederà alla piantumazione di circa 150 nuovi arbusti. Questo lavoro che stiamo facendo è un lavoro di grande prevenzione perché il patrimonio verde è una cosa estremamente importante ma come tutti gli esseri viventi ha una vita, ha un ciclo vitale, ha anche del fine vita. E quindi per evitare che possa essere problematico per le persone e per le cose, creare problemi, noi abbiamo l'anagrafe del verde urbano e andiamo quotidianamente a verificare la staticità e la tenuta delle piante. In questo caso nella zona centro mare faremo alcuni abbattimenti, sono 41 complessivamente tra le vie della zona e successivamente, una volta fatto gli abbattimenti, andremo a fare la ripiantumazione. È carattatura, ovviamente per togliere le radici e le parti di tronco rimanenti e poi andremo da qui alla primavera a fare una ripiantumazione. Lo facciamo anche dove non andiamo ad abbattere le piante, ma dove andiamo, dove già non ci sono, dove come in via Gramsci ci sono diversi tornelli che sono rimasti liberi negli anni per le piante che non avevano attecchito via dicendo, andiamo a fare una ripiantumazione. Siamo all'incirca, solo in questa zona, 150 piante che andranno rimesse a dimora e quindi questo lo facciamo. Abbiamo stilato insieme ai funzionari preposti quelle che erano le priorità insieme al quartiere per quel che riguardava la manutenzione del verde. Appunto, Viale Raffaello Sanzo, Viale Vaccai e Viale Buonarroti sono state indicate insieme ad altre vie in verso Viale Fiume, fra le priorità ed è per noi un piacere vedere che al primo modo, diciamo, occasione utile, questa attività di manutenzione del verde è stata fatta e viene portata avanti in maniera, diciamo, efficiente e puntuale.